Giovanni Minardo, allora capo di gabinetto dell'ex sindaco di Pozzaro Giuseppe Sussenti, dopo essere finito in carcere per 40 giorni con l'accusa di estorsione, è stato ora assolto con la formula perché il fatto non sussiste. Il suo accusatore Gianluca Manenti, attuale presidente dell'Associazione Commercianti, secondo cui Minardo gli avrebbe chiesto denaro in cambio dell'assegnazione di migranti minori non accompagnati nella struttura ricettiva di cui era a titolare, è stato invece ora rinviato a giudizio per calunnia ai danni dello stesso Minardo. Nel corso del processo le accuse di Manenti nei confronti di Giovanni Minardo, risultato assolutamente strano nei fatti contestatili, sono cadute una dopo l'altra, smentite dai numerosi test esaminati. Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione, Minardo ha quindi presentato denuncia per calunnia contro Manenti che, come accennato, è stato rinviato a giudizio. Il dibattimento è fissato per il 4 aprile 2017. La richiesta di rinviare a giudizio è stata perorata anche dalla pubblica accusa che nel procedimento già a carico di Giovanni Minardo ne aveva chiesto la condanna a quattro anni e mezzo. Lo stesso Minardo si è costituito parte civile con il patrocinio dell'avvocato Enzo Galazzo che l'ha assistito ininterrottamente sin dal 10 luglio 2011, giorno dell'arresto, ingiusto alla luce della sentenza di assoluzione.